Era il 1988 quando venne istituita la giornata mondiale dell'AIDS, una sindrome che compare per la prima volta nella letteratura scientifica nel 1981, anche se già negli anni 70 erano stati riportati casi isolati negli Stati Uniti e in altre aree del mondo come Haiti, Africa ed Europa. Il nome, un acronimo inglese che si traduce con sindrome da immunodeficienza acquisita, viene invece deciso un anno dopo nel 1982, quando ormai era chiaro che questa complessa patologia del sistema immunitario non aveva origine ereditaria ma veniva acquisita per vie ancora sconosciute. Diffuse in principio solo tra le comunità omosessuali, quell'anno venne registrata per la prima volta anche in soggetti emofiliaci che necessitavano di continue trasfusioni. Iniziarono così nuovi studi di questa sindrome che si presentava sotto forma di diverse manifestazioni patologiche che portarono a scoprire, un anno dopo in due diversi laboratori, il virus responsabile del contagio, che solo nell'86 prenderà il nome di HIV, un altro acronimo inglese per virus della immunodeficienza umana, di cui l'AIDS è la manifestazione terminale più grave e spesso mortale. In Italia, dal 1982 ad oggi, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, sono stati segnalati oltre 72.000 casi di AIDS, di cui 47.000 deceduti fino al 2020, pari al 65%. 1888 nuovi casi di infezione da HIV nel 2022, 403 i casi di AIDS. Dal 2015, il numero dei decessi per AIDS è stabile sui 550 casi all'anno, ma in occasione della giornata mondiale, gli epidemiologi lanciano un allarme sulla perdita di consapevolezza dei più giovani sulla gravità della malattia.